La Cassa Rurale parla ai giovani, giovani generazioni, chiamate a raccolta da chi gestisce il denaro ogni giorno, per spiegare loro che non si deve perdere tempo. Le incertezze del futuro che aspettano ciascuno di noi, ma soprattutto i più giovani, che non conoscono le loro prospettive, specie in campo previdenziale, devono convincere a mettere in campo tutti gli strumenti utili a garantire una serenità d'azione per gli anni a venire. È l'intento della Cassa Rurale Alta Valsugana, che ha sede a Pergine, che per giovedì prossimo, 22 novembre, vuole proporre ai ragazzi un invito, esteso dunque a un pubblico in erba, per spiegare come pianificare le scelte di risparmio e quelle previdenziali. L'appello ai giovani Valsuganotti ed a chi ne fosse interessato è per giovedì alle 20 e 15 presso l'auditorium delle scuole Don Milani di Pergine. La serata è stata studiata in un format il più leggero possibile. Oltre agli interventi di rappresentanti della Rurale, di Cassa Centrale Banca, del CNR, dell'Inps e di Pensplan, è prevista anche la partecipazione di Lucio Gardin, attore, autore comico.